Ravioli ripieni di ricotta con pesto di melanzane, pomodorini saltati e menta fresca. Gli ingredienti per questa ricetta sono 300 g di pasta all'uovo già stesa. Per la farcia utilizzeremo 150 g di ricotta Santa Lucia, un uovo, 60 g di parmigiano, 15 g di pan grattato, noce moscata. Per il condimento utilizziamo 2 melanzane, 10 pomodorini, menta fresca, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Per prima cosa facciamo la farcitura. Prendiamo la ricotta, la mettiamo in una boule, aggiungo un uovo e rimescolo per bene il parmigiano grattugiato, pan grattato e delle foglioline di menta per dare una spinta di sapore e far risaltare il sapore della ricotta. A questo punto mettete il composto all'interno di una sac à poche e conservate in frigorifero fino al momento di farcire i ravioli. E adesso andiamo a farcire i ravioli. Fate sulla parte interna dei sciuffetti di ripieno. Una spolverata di noce moscata. Una spennellata d'acqua proprio lungo i bordi per far chiudere la pasta. Ripiegate la pasta su se stessa e chiudete. Cercate di andare il più vicino possibile alla farcitura. Con un coppapasta ma anche con una rotella dentellata se preferite andate a ritagliare i vostri ravioli. Ho messo una padella antiaderente a riscaldare sul fuoco. Aggiungo un filo d'olio. Dei pomodorini tagliati a metà. E li lascio insaporire. Un po' di sale. Un po' di pepe. E infine la polpa delle melenzane tagliata a coltello. I ravioli sono cotti e li salto per qualche secondo nella padella con il condimento. Servitevi ben caldi.